buongiorno buon sabato mattina benvenuti siamo in diretta per occhio ai giornali edizione delle 7.30 non è andato in mondo perché abbiamo avuto qualche problema tecnico che penso abbiamo cercato di risolvere però siamo siamo qui vogliamo mostrare i giornali che abbiamo scaricato nel nostro touchscreen naturalmente come sempre corriere e il resto del carlino sfoglieremo le pagine principali naturalmente diamo comunque un'occhiata all'almanacco del giorno guardiamo il santo del giorno e quindi poi passiamo subito ai giornali che naturalmente sono già pronti qui oggi è sabato 12 novembre san glosfat il sole è sorto alle 6 e 59 e tramonterà alle 16 e 46 san glosfat benissimo espletata la funzione dell'almanacco passiamo ai giornali vi faccio vedere subito l'apertura del resto del carlino di pesaro allora adesso ve la faccio vedere qualche istante dopodiché naturalmente vedremo anche il resto dei giornali ok eccoci qua bene adesso dovrebbe sentirsi un po meglio allora va a scuola serale investita e uccisa questo è il titolo in testa di pagina nella fotonotizia invece il giovane imprenditore apre un mini market con un prestito d'onore ma un supermercato che gli si aprirà fra poco lì vicino rischia di mandare tutto in fumo i suoi sforzi illuso e mazziato poi l'operazione della guardia di finanza che ha scovato 49 persone completamente sconosciute al fisco evasori totali il bilancio della finanza e naturalmente chiesti 18,5 milioni di beni da sequestrare per recuperare le imposte evase eccolo qui il giovane imprenditore lo vedete nella foto con la sua attività che era partito da pochissimo e naturalmente il supermercato più grosso lo farà chiudere a pochi a pochi passi da lui vicenda paradossale finanziata dalla regione dalla regione apre un negozio ora rischia di chiudere per la concorrenza domenico falcone ho investito 40 mila euro due terzi pubblici che sto restituendo ma da ottobre gli incassi si sono azzerati rilancio ma non basterà il calo di affari è stato repentino qui l'intervista nelle pagine del resto del collino il suo amaro sfogo si parla di anche ospedale unico a pagina 7 specialisti del minuetto perché la maggioranza consigliare non vorrebbe esprimersi sulla richiesta pro fos sei ore e intanto i sindaci non fanno richieste ufficiali ma gambini avverte che la convocherà lo stesso l'assemblea dei sindaci dell'area vasta che lui appunto si era detto disponibile ad aprire per rilanciare il dialogo e tutte le possibilità ma la richiesta da parte dei sindaci non è arrivata quindi insomma è caduta nel nulla però lui dice che comunque la riconvocherà per un'ulteriore consultazione di tutti i sindaci apriamo la pagina di Fano del resto del Carlino perché la seconda carica dello Stato arriverà la settimana prossima qui a Fano per insomma così assistere alla consegna della cittadinanza onoraria insomma al piccolo divine che insieme alla madre è scampato alla morte nel insomma nel mare adriatico recuperato da una 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 nave di medicine senza frontiere e quindi insomma è arrivato per veramente per per divina provvidenza anche a Fano dopo esser scampato alla morte insieme alla madre e adesso Piero Grasso il presidente del senato sarà qui a Fano al teatro della fortuna per ufficializzare questo questo momento il senato si mobilita per divan la madre ringrazia l'Italia e Dio il bimbo cittadino onorario appunto arriva Grasso lo stesso bambino è stato protagonista insieme al vescovo dell'apertura della porta del giubileo insomma quando quando ci fu la cerimonia era era accanto a Monsignor Trasarti anche qui si parla di Fosso 6 ore e di ospedale unico le strategie prima del consiglio di dicembre sia Fosso 6 ore il meno peggio il PD dice se non ci tocca se no ci tocca muraglia più problemi per le liste civiche il fronte sul fronte dell'aeroporto obiettivo rimettere in equilibrio economico la Fano Fortuna questo è un po' il sunto di quello che è avvenuto nella conferenza stampa di ogni venerdì che il sindaco tiene con i giornalisti ci sono toccati questi due o tre argomenti oltre a Piero Grasso naturalmente anche aeroporto e ospedale unico domani si vota domani si vota in alcuni comuni del nostro entrotrerra per la questione delle fusioni in ballo le fusioni per creare colli al metauro e terre roveresche qui vedete i sindaci impegnati in questa operazione da questa parte vedete quelli di colli al metauro e questi sono quelli di terre roveresche unione dei comuni l'ora della verità ma basta un no per bloccare tutto l'assessore regionale Fabrizio Cesetti e agli enti locali dice rispetteremo al massimo la volontà dei cittadini e questo è il quesito che comparirà nella scheda elettorale vuoi tu che sia istituito un nuovo comune mediante la fusione di e poi di fianco tutti gli schieramenti questa è la domanda alla quale dovranno rispondere i cittadini di questi comuni chiamati appunto ad affrontare questo passaggio importante della loro vita in ambito sociale andiamo con il Corriere Adriatico, questa è la pagina di apertura diverse notizie, falciata sulla strada, muore a 19 anni questo tragico incidente che è avvenuto davanti all'alberghiero Santa Marta e poi storie di integrazione a Senigallia c'è un caso in controtendenza la scuola dove gli islamici chiedono i canti di Natale la risposta a chi li sospende dicono salvate le tradizioni quindi un caso di integrazione al contrario andiamo a vedere all'interno le pagine anche qui la guerra ai furbetti delle tasse scovati qui tutti i numeri ci sono dell'operazione dall'inizio dell'anno della guardia di finanza evasione fiscale e lavoro in nero è aumentata la presa di coscienza ci arrivano tante segnalazioni ci ha detto il comandante Raimondo così qua una chiacchierata con i giornalisti al comando provinciale eccola qua la vicenda della ragazza a 19enne travolta da un atto davanti alla scuola Florenta una vita spezzata a 19 anni in queste foto le sue immagini è stata investita da un 51enne pesarese che ha subito dato l'allarme il decesso è avvenuto a me poco dopo ospedali ospedali che aprono ospedali che chiudono ospedali che si devono ancora costruire a Fossombrone ce n'è uno e spariscono da questo ospedale 20 posti letto l'ospedale non è adeguato l'annuncio di Fiorenzuolo ai sindacati saranno riassegnati a Mondavio e a Galantale vedete qui nella foto l'ingresso dell'ospedale di Fossombrone ancora nelle pagine del Corriere Adriatico quelle che riguardano Fano il sindaco appunto su Fossoseiore fa votare la variante ospedale unico l'impegno in consiglio l'alternativa sarebbe il sito di Muraglia e qui vedete il rendering che ormai conosciamo tutti ampiamente perché è quello che disegna, mostra quello che dovrebbe essere la nuova struttura il Corriere Adriatico fa un articolo anche sulle periferie il futuro è appunto nelle periferie la fotografia socio-economica dell'Università di Urbino città più evoluta per istruzione reddito e donne al lavoro i dati negativi però riguardano disoccupazioni, inquinamento, incidenti stradali peggiori di quelli provinciali ancora nelle pagine del Corriere Adriatico vi mostro questa appunto due uffici non fanno per uno in piazza a pochi passi ci sono gli sportelli per il pubblico di comune e regione ma nessuno è aperto nel weekend quando c'è la maggioranza di afflusso turistico vedete appunto adesso allargo un attimino vi faccio vedere la foto dei due uffici uno accanto all'altro sono questo qui e questo qui quindi a pochi passi regione e comune e poi ancora dalla Val Cesano ecco i ladri tornano sul luogo del delito ancora ladri in azione secondo Raid nella zona industriale rubano un furgone all'AMS e sottraggono documenti tecnici a Fontana Forni quindi ladri in azione nella zona industriale il referendum è un'occasione appunto parlavamo di fusioni bisogna votare per la fusione l'ex sindaco di San Giorgio ricorda la fondazione di un nome roveresca ben 13 anni fa ultima pagina che vi faccio vedere è quella di Senigallia anche qui ladri in azione per scarpe sapone passeggini l'escalation dei furti per disperazione anche questo è un aspetto della crisi se vogliamo oppure comunque è un momento non facile per molti nel mirino beni di prima necessità ma anche oggetti per gli adolescenti di oggi che oggi desiderano e quindi insomma è cambiata anche il bersaglio merciologico dei ladri anche in base a quello che è il momento sociale bene questa è l'ultima pagina che vi facevo vedere grazie per essere stati in nostra compagnia io mi fermo qui la rassegna stampa in tutta la sua completezza tornerà lunedì mattina come sempre alle 7.30 puntualmente quindi grazie per essere stati con noi buona fine settimana a tutti voi arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.